Allora siamo con il Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, su quel che rimane della provinciale 162 che collega Fraine con Castiglione e Sermarino e il resto dell'Alto Vastese. Una frana imponente per la quale il Presidente ha già trovato dei finanziamenti da tempo, da due anni, però i lavori non partono. Presidente, ci spiega il motivo di questa impasse? Allora noi nel comprensorio come Regione in questi 30 mesi abbiamo assegnato oltre 4 milioni di euro, 2 milioni soltanto per questa frana e abbiamo delegato per la esecuzione dei lavori e per la definizione del contratto la provincia di Chieti, la quale so che ha proceduto al bando di gare e anche all'individuazione del contraente. Il contraente che ha vinto la gara ha determinato anche la progettazione esecutiva e so nell'arco dei prossimi 60 giorni procederà alla firma contrattuale. Si tratta di una frana impegnativa, complessa, poiché ha demolito letteralmente tutto il sedime viario, bisognerà guadagnare spazio e soprattutto suolo resistente da qualche parte che oggi non si riesce a vedere. Io oggi ho garantito che se serviranno troveremo ulteriori risorse per completare non solo la risistemazione di questo sedime viario, di questa strada provinciale, ma anche le altre realtà provinciali che conducono ai comuni dell'Alto Vastese. La stessa cosa abbiamo fatto per quanto riguarda il comune di Schiavi d'Abruzzo, per quanto riguarda il comune di Fraine, di Castelguidone e per quanto riguarda anche il comune di Torre Bruna. Anche lì ci sono più problemi, ad uno dei problemi abbiamo già prodotto copertura finanziaria e intervento adeguato. Adesso abbiamo visto un'ulteriore criticità riguardante uno smottamento della parte sovrastante, il sedime viario della strada provinciale che porta a Torre Bruna, abbiamo già concordato che tra provincia e regione faranno due interventi che si compongono. Io mi auguro che la pigrizia della burocrazia che è sempre in agguato, a volte per la incomprensione delle norme, a volte per la delicatezza delle procedure, non riesca a vincere rispetto alla gravità della situazione. Io personalmente come compito è quello di reperire le risorse finanziarie e di dettare vigilando le priorità e ogni settimana sono all'opera per recuperare risorse per un sistema viario minore al servizio dell'Abruzzo che per troppi decenni non ha trovato manutenzione. Soltà negli ultimi 60 mesi noi abbiamo contato un numero di frane che superano le 300 frane. Nei 30 mesi di mia competenza ho prodotto qualcosa come circa 300 milioni di euro di investimenti su tutte e quattro le province. per una rete stradale provinciale che da troppo tempo non è stata resa oggetto di attenzioni. Voglio anche mettere in evidenza che venendo qui su questa frana all'altezza di Castiglione abbiamo incontrato un tratto di frana che sta mettendo a rischio anche due pali dell'energia elettrica. Ho provveduto a chiamare il direttore Giovanni dell'Enel per fare in modo che loro intervengano sia per la resistenza dei pali che per il recupero di idoneità viaria. Mi ha garantito di sì, naturalmente nei prossimi giorni provvederò a intervenire.